Le Spice Girls, delle Spice Girls, con il primo casting che ho fatto dove mi sono buttata e lì è venuto fuori la sostanza. Mi sembra un'isola, mi sembra molto organizzata, a misura d'uomo, molto pulita, molto civile. Per me il cinema è un canale di espressione, non è finzione, non è recitazione, è proprio mettere a disposizione degli altri una parte di sé o tutte le parti di sé. È la consapevolezza di se stessi, quindi anche delle proprie ombre, non spariscono le ombre, le illumini soltanto. Grazie a tutti.